Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Irina Lucidi, la mamma delle gemelline Alessia e Livia Skepp la cui tragica scomparsa ha scosso l'opinione pubblica anni fa, confermandosi uno straziante caso di cronaca. È riuscita con il tempo a superare se non totalmente, ma in parte il dolore dedicandosi ai bambini bisognosi. Il caso delle due gemelline conclusosi tragicamente con la loro misteriosa scomparsa e il suicidio del padre sotto un treno, dopo averle probabilmente uccise, a distanza di più di dodici anni resta avvolto da un manto di mistero. L'uomo con la sua fuga sospetta tra Svizzera, Francia ed Italia, ha fatto ipotizzare che si fosse macchiato del terribile delitto in preda a un raptus che ha trovato conferma nella lettera scritta prima di morire alla mamma delle gemelline scomparse, nella quale ha accennato al destino delle piccole. Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le rivedrai mai più. Un dolore immane si è impossessato della loro mamma che a fatica è riuscita ad affrontare la morte delle sue figlie, strappate al suo affetto in una maniera disumana. Irina Lucidi da mamma non si era assegnata ad un destino atroce e dopo aver vissuto l'evento tragico come un dolore straziante ha deciso di fare qualcosa per se stessa e per onorare il ricordo delle sue bambine. La donna, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della svolta data alla sua vita dopo la disperazione che ha dovuto affrontare. Irina Lucidi ha deciso di fare qualcosa che potesse essere utile per colmare il grande vuoto lasciato da Alessia e Lidia. Irina Lucidi ha così svelato al Corriere di aver deciso di abbracciare una causa sociale dando vita alla fondazione Missing Children con sede in Svizzera, della quale si occupa insieme ad alcuni suoi amici, con lo scopo che quello che è successo alle sue bambine possa non ripetersi mai più, e proprio in loro ha trovato la motivazione per andare avanti. Le mie gemelline sono sempre rimaste qui, accanto a me. Ce le ho negli occhi, sulla pelle. Trasmettono la vitalità che soltanto i bambini sanno come e dove trovare.